Sto dicendo che nel computo delle maglie che rimangono, la maglia di Lille non è in discussione. Non è che siccome io ho offerto la maglia a Lille, tolgo un posto a voi. Perché io questo ve l'ho spiegato molto bene. Ma cinque minuti fa hai detto che te l'hai presa anche per un fatto che ti dispiacesse, che lei altrimenti non sarebbe andata a serale perché Rudy... Questa è la mia motivazione. Ma Rudy... Questa è la mia motivazione. Però ora stai dicendo che invece lei avrebbe la maglia a prescindere, si è contento di lui. No, ma non capisci, Aile, ti sto dicendo, sono due discorsi distinti, amore mio. Sono due discorsi distinti. Invece voi pensate che siccome io ho offerto la maglia a Lille, che non è detto che venga con me, ecco perché stai facendo tutta una serie di... Ma no, ma però a me, allievo tuo, mi dispiace che tu ti preoccupi più, magari per un'allieva che non è neanche la tua... Ma tu sai quanto mi preoccupo di te, Aile. Certo, esatto, però arrivati a questo punto... Tu sai quanto mi preoccupo di te? Ma certo, ma io non lo metto in mente. Tu sai quanto mi preoccupo di te? Ma certo, esatto. E allora, io questo non me lo puoi dire. Grazie. 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 Grazie.